che torna a correre a Treviso dopo aver vinto a metà marzo partiti in questo momento i sette concorrenti con il numero 4 di Ciano che prende subito il comando davanti a Irish Blue dunque Ciano al comando Irish Blue in terza posizione superato da Bachelor che si va a prendere il secondo posto in questo momento quindi da favorito Ciano a comandare la corsa su Bachelor Irish Blue e via via tutti gli altri cavalli alla prima piegata c'è in quarta posizione Alfono in questo momento si va sulla prima piegata dicevamo con Ciano che continua a condurre questa quarta corsa il trofeo Clemente Papi in seconda posizione c'è sempre Bachelor a precedere Irish Blue e Alfono cavalli che completano la prima piegata si va sulla retta opposta a quella di arrivo con Ciano che continua a condurre questa quarta corsa Ciano con la monta di Veronica Grasso Caprioli cavalli che completano anche la retta opposta a quella di arrivo Ciano sempre al comando va a impegnare l'ultima piegata lo segue sempre Irish Blue Ciano al comando cavalli in piegata con Ciano che precede sempre il numero il numero 6 di Irish Blue e il numero 3 di Bachelor cavalli che stanno per completare anche l'ultima piegata si prestano ad entrare indirittura conclusiva Ciano ancora al comando si gira Veronica Grasso Caprioli a controllare all'interno Bachelor che cerca di impegnarlo Ciano deve difendersi dall'attacco interno di Bachelor ancora Ciano alla comando Bachelor poi si insinua anche Cleaver Band ma Ciano sembra poter sfuggire a tutti e Ciano viene a vincere questa quarta corsa davanti a Bachelor Cleaver Band al quarto posto dovrebbe esserci il numero 6 di Irish Blue quindi Ciano torna a Treviso e si conferma ancora vincitore dopo la vittoria ottenuta a metà marzo Ciano torna a Treviso e vince ancora con il numero 4 rivediamo nel fotofinish Ciano in prima posizione Bachelor in seconda in terza c'è Cleaver Band a precedere numero 6 di Irish Blue Ciano torna a Treviso e vincitore